Il lupo torna a farsi vedere. All'arsiero, nella frazione di Castana, gli avvistamenti sono quasi quotidiani da circa una settimana. Non si tratta però di esemplari in branco come quelli avvistati due anni fa, ma di un unico soggetto che apparentemente sembra non avere paura dell'uomo. Forse si tratta di un esemplare ibrido liberato in natura. Più che per la paura, questa volta per il lupo prevale la pena. L'esemplare infatti quasi cieco appare anche molto malato. Il manto sarebbe affetto da un'estesa dermatosi. Il suo avvistamento è stato segnalato ai carabinieri, ma di lui si continua a parlare nei social. Nella pagina Facebook di Posina il tam-tam è continuo, come pur i commenti alle foto di chi è riuscito ad immortalarlo. Più che essere intimoriti, questa volta il lupo suscita compassione. L'attente al lupo diventa povero lupo e molti si chiedono se si sia riusciti a curarlo. L'auspicio di tutti è che arrivino presso le autorizzazioni ministeriali per catturarlo e metterlo in sicurezza.